Abbiamo un progetto che ormai stiamo perseguendo da diversi anni di arrivare in ogni zona del nostro territorio nazionale in cui c'è necessità di portare aiuto alla popolazione ma non soltanto aiuto, anche fare attività di prevenzione e attività di formazione in 20 minuti. Quindi abbiamo una carta che aggiorniamo regolarmente e quindi individuiamo i posti che secondo noi sono più consoni a garantire un soccorso tecnico urgente efficace. L'attuale governo ha stanziato dei fondi che ci consentiranno di fare ulteriori ampliamenti di organico e quindi con questi ampliamenti di organico riusciremo a garantire un maggior numero di distaccamenti a livello nazionale nonché riclassificare i distaccamenti che attualmente sono esistenti e che quindi potrebbero avere un'implementazione di personale di vigili a fuoco.